Buongiorno a tutti, visto che San Valentino si avvicina, abbiamo delle proposte per voi. E cominciamo con questo bellissimo cuscino della Legami. Che dire poi di questo? Facciamo le domande e abbiamo le risposte. Libri, tra i libri più belli di sempre, le nostre anime di notte di Kent Arouf, Follia di McGrath e un dolcissimo Ancora una volta con te. Immancabili le poesie d'amore. Gli smartbox sono sempre un'ottima idea. Innamorati, un bellissimo albo illustrato. E della stessa serie, oltre l'albo, c'è anche il notebook. Tazze. Il caldo cuscino con i semi di lino. E il power bank. Qualcuno ha bisogno di un bacio? La tazza della cura di Battiato. Immancabile per un vostro pensiero, i biglietti d'amore. E ancora tantissime le idee del regalo. Secchietti, pennelli, borsellino, portachiavi, portapenne, taccuini, tazzine da caffè. Lavagna magnetica, pochette. Un piccolo libretto con le vostre dediche d'amore. Insomma, ci sono tantissime idee. Non avete scuse per non avere in libreria e pensare al vostro amore. Buon San Valentino a tutti. Ciao! Ciao!